I numeri dell'ultima indagine realizzata nella diocesi di Trivento, quaderni della solidarietà, confermano quanto si dice ormai da anni. C'è una forte diminuzione della popolazione, un suo rapido invecchiamento e alcuni paesi sono destinati a scomparire. Don Alberto Conti, direttore della Caritas di Trivento, ha consegnato la relazione aggiornata al 31 dicembre 2016 nelle mani del nuovo vescovo Claudio Palumbo. Il quadro che emerge è chiaro nei 40 comuni della diocesi, 19 in provincia di Isernia, 12 in quella di Campobasso e 9 in provincia di Chieti, gli abitanti sono sempre di meno e le criticità tante. Un quadro purtroppo pressoché identico in tutta la regione. Il rapporto elaborato dalla Caritas diocesana in collaborazione con la scuola di formazione all'impegno sociale e politico Paolo Borsellino è diviso in due parti, un'analisi sociografica e una su vecchia e nuove povertà. Oggi ci occupiamo della prima. Si evidenzia che i collegamenti tra i comuni della diocesi di Trivento sono poco agevoli e gli abitanti rischiano di rimanere isolati, specie per le numerose frane, una situazione che persiste da oltre 15 anni, viene spiegato. Dei 40 comuni solo 8 superano i 1000 abitanti, tra cui quelli più popolosi sono oggi Trivento con circa 4.700 abitanti, Agnone compressa poco 5.100 e Frosolone con quasi 3.200 abitanti. Il resto è sotto i 1000 e addirittura una quindicina sono i centri sotto i 500 abitanti. In prospettiva nel 2026 saranno sempre di più questi comuni. Lo spopolamento interessa tutti i centri a causa di mancanza di servizi e lavoro e la gente si trasferisce anche fuori regione e migra, specie i giovani. Il dato che balza gli occhi è che dal 1961 al 31 dicembre del 2016 nella diocesi di Trivento si è passati da 80.820 residenti a 37.060. In 55 anni si sono persi 43.760 abitanti. Dal 2013 al 2016 si sono persi in diocesi 1.451 residenti. La popolazione è sempre più vecchia con gli anziani, considerati ultra 65 anni, fortemente presenti. Sono al 27,9% oltre 10.000 su 37.000. In alcuni comuni rappresentano quasi la metà. Gli ultra ottantenni nella diocesi di Trivento rappresentano il 12,7%. Il tasso di natalità è di 6 nati per 1000 abitanti, quello di mortalità è 16,2 per 1000 abitanti.